Da domani 5 gennaio anche a Cosenza partiranno i saldi invernali che si protrarranno per i prossimi 60 giorni, un'occasione importante per i consumatori per effettuare gli acquisti e smuovere così tutto il comparto economico del territorio. Un'occasione importantissima l'ha definita il presidente di Confesercenti Cosenza Vincenzo Farina perché potrà ridare l'infa vitale alle attività commerciali. Le occasioni di risparmio dichiara il presidente di Confesercenti Cosenza per i consumatori non mancheranno e anzi a differenza di quanto accaduto con il Black Friday garantiranno una maggiore percentuale di sconto e quindi di convenienza per l'acquirente. Secondo un'indagine svolta per conto di Confesercenti il 58% dei consumatori considera molto conveniente acquistare prodotti in sconto mentre la sfiducia nei confronti dei saldi è pari al 15% dell'utenza. Sappiamo bene che la crisi si fa sentire, ha proseguito ancora Farina ed è proprio per questo che siamo convinti che i saldi rappresentino un'utile opportunità per privilegiare l'acquisto sul territorio e negli esercizi di vicinato. Come è facile ipotizzare? L'indagine di Confesercenti ha messo in rilievo che i capi di abbigliamento rappresenteranno i beni maggiormente acquistati durante il periodo dei saldi per un 62% del totale mentre il 42% degli acquisti sarà riservato alle scarpe e il 12% alle borse. Il 9% riguarderà la biancheria per la casa mentre soltanto il 6% avrà come oggetto i prodotti tecnologici. Ai libri sarà dedicato il 4% della spesa globale mentre ben il 17% dichiara che non effettuerà acquisti. Ad ogni modo la spesa media prevista per ogni nucleo familiare sarà di 337 euro.